Cari atleti, cari atleti, a tutti voi, ai vostri allenatori, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti i componenti della Delegazione Italiana e Giochi Paralimpici di Rio, rivolgo il mio saluto più cordiale. È un augurio, l'augurio di partecipare con entusiasmo e di conseguire risultati sportivi che accrescano il vostro impegno e la vostra passione. Voi siete l'Italia. La bandiera che ho consegnato a Martina Caironi è un simbolo che ci unisce, che ci lega alla nostra storia e alla nostra comunità nazionale. Lo avvertiamo ancora di più a pochi giorni di distanza dal terremoto. Una catastrofe che ha provocato tanti lutti e tante ferite tra la nostra gente e nel nostro animo, nell'animo di tutti gli italiani. In questi giorni ciascuno di voi sarà la bandiera del nostro Paese. Davanti al mondo intero l'Italia si mostrerà con i vostri volti, la vostra tenacia, la vostra lealtà. Il vostro desiderio di superare il limite si mostrerà attraverso la vostra umanità. È una responsabilità, ma anche una occasione straordinaria. Io so che darete un contributo prezioso all'immagine dell'Italia. Dentro e fuori la competizione. La grandezza dei giochi sta in questo, nel dare un significato forte e positivo all'essere nazione e al tempo stesso aprirsi al dialogo e all'amicizia con gli altri, di paesi e di culture diverse, con donne e con uomini che provengono da ogni parte del pianeta. C'è un messaggio universale che vi coinvolgerà in questi giorni e anche di questo messaggio di verete testimoni. È un messaggio di pace, di fraternità, di solidarietà. Tutti sappiamo quanto ve ne sia bisogno oggi. Mi auguro che dalle Paralimpiadi questo messaggio giunga forte e aiuti tutti perché acquistino maggiore conoscenza e maggiore comprensione. perché siano aiutati ad abbattere barriere e pregiudizi, a favorire un clima di amicizia e di rispetto dei diritti. Lo sport è un veicolo importante di fraternità, di conoscenza reciproca, di integrazione. Lo sport ha un valore grandissimo sul piano sociale, su quello educativo, della formazione delle persone. Lo sport è crescita, è cultura e voi ogni giorno lo sperimentate. In questi prossimi giorni lo vivrete ancora di più quando vi confronterete con atleti che saranno avversari durante le gare, ma resteranno per sempre amici e compagni di una bellissima avventura. Noi italiani abbiamo un motivo di orgoglio, quello di aver dato inizio ai giochi paralimpici nel 1960. Fu infatti, grazie all'intuizione e al lavoro di Antonio Maglio, che si riuscì ad abbinare questa manifestazione ai giochi olimpici di Roma. Questa è una medaglia che ci teniamo stretti e che intendiamo onorare. Desidero congratularmi con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, Anche per aver predisposto Casa Italia in una zona di Rio segnata da povertà e da emarginazione, nel segno della condivisione e della solidarietà. Ed aver destinato parte delle risorse per l'organizzazione a un progetto di promozione sociale, che son certo darà buoni frutti. Anche questo è un modo, un bel modo, per dare al mondo l'immagine dell'Italia che vogliamo. Lo sport è anche un veicolo per esprimere la propria personalità. So bene come questo per voi abbia un significato ancora più profondo e ancora più intenso. Lo sport è una manifestazione della vita e offre la possibilità di migliorarci. Non può, non deve diventare un fattore di discriminazione, non deve mai diventare pretesto di violenze o motivo di frode. La promozione dello sport va realizzata con lealtà, con coraggio, con amicizia. Si tratta insomma di essere atleti con la A maiuscola e voi siete atleti con la A maiuscola. I valori paralimpici sono il coraggio, la determinazione, l'ispirazione, l'eguaglianza. Si tratta di valori universali della persona e quindi dello sportivo. Sono parole, sono valori che tradurrete in realtà con i vostri gesti, con il cuore e con l'intelligenza che metterete nelle gare. Vi aspetto a Roma per festeggiare la vostra partecipazione e anche le medaglie e i piazzamenti che avrete conquistato. Come voi spero che siano numerosi, ma soprattutto vi aspetto perché l'Italia vi è riconoscente e perché voi dopo i giochi continuerete ad essere testimoni di tenacia, di solidarietà, di umanità, trasmettendo questi valori a tutta la nostra società. Grazie. 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 Grazie.